L'acqua è ghiacciata, non è che ti sei dimenticato di pagare la bolletta del gas. Ma c'è solo me un lavoro. Però se sei sbattuto, saranno i vestiti, il viso e il mattino, sembri fine giornata. Che voleva, Valerio? Mi hai messo a lavorare sotto un influencer di 20 anni. Tu quanti l'hai fatti la settimana scorsa? 41? 40. E mia mamma ce n'ha 40 e sta una bomba. Mamma. Se tu vuoi che io smetto di lavorare per andare a rispondere al tecnico di internet, io lo faccio. Buongiorno a tutte e due. Bellissima sta storia del bonus aziendale, no? Quale bonus? Lei è molto compressa. Ad ogni attacco d'ansia ne prenda tre massimo quattro gocce. Sentiamoci tra qualche giorno. E pure noi non ci siamo visti stamattina, eh? Non sei in grado di viaggire in un'azienda, Valerio? Sono un coglione. Ho capito. Hai il ciclo. Un saluto a tutte e due? Mi dici che c'è? Ho capito. Ti è venuto il ciclo, vedo? La capitale della Spagna? Certo che lo so. I pizza. Vabbè, che vuoi di donna in queste situazioni? Non dire mai a una donna, vuoi donne. Non so il tuo, ma io porterò sempre qualcosa di te con me. Il mio banco, Marta?